Ciao artigiano! Dunque, spesso avvitare una vite su un materiale, su una superficie particolarmente dura, può essere difficoltoso. Parlo di materiali duri come possono essere i laminati oppure legni, legni tipo faggio, frassino, rovere o castagno. Questo soprattutto può capitare con viti la cui filettatura non arriva sino proprio all'estremità, sino alla punta dell'ogiva. Qui alla destra vedi una mustad panel vit dove chiaramente si vede la filettatura arrivare sino all'estremità della punta, all'estremità dell'ogiva, mentre sulla sinistra vedi una vite concorrente e la filettatura non arriva sino all'estremità, si ferma qualche millimetro sotto. Cosa comporta questo arretramento della filettatura? Su un materiale particolarmente duro come può essere trucciolato o laminato, la vite messa in rotazione dall'avvitatore gira, ma non facendo subito presa la filettatura tenderà a slittare per diversi giri prima di penetrare il materiale, quindi prima di far presa. Diversamente è stata studiata la panel vit di musta, ovvero già dalle prime rotazioni la filettatura fa presa sul materiale, perché la filettatura è presente già all'estremità della punta e non qualche millimetro arretrata. Su una vite la cui filettatura non arriva sino all'estremità si può avere lo stesso inconveniente che ti ho mostrato sui pannelli laminati, anche su legni duri. Il primo esempio te lo mostro su legno di faggio con la vite gialla, ovvero la... Come avrai notato c'è stato uno slittamento, questo dovuto appunto alla mancanza di filettatura nei primi millimetri della punta. Ora ti faccio lo stesso esempio utilizzando una panel vit di musta. Avrai notato che le viti sono entrambe 5x70 di misura, entrambe hanno la filettatura parziale. Come hai appena notato la panel vit praticamente inizia a penetrare il legno già dal primo giro, quindi vuol dire che la filettatura fa presa nelle fibre del legno. Questo è inutile dirlo, migliora l'efficienza della vite, migliora la durata della batteria dell'avvitatore. A parità di carica della batteria una vite più efficiente permette all'attrezzo appunto di avvitare più viti con una sola carica. La prova termina qui, spero di essere stato chiaro, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao artigiano!